Siamo qui a Riccione per la Miss Reginetta d'Italia, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Fly. E da questa meravigliosa spiaggia di Riccione salutiamo tutti gli amici di Radio Fly. Ciao ragazzi, ascoltate tutti Radio Fly, mi raccomando. Ciao a tre amici! Ascoltate tutti Radio Fly. Ciao Radio Fly. Ciao Radio Fly. Un saluto a tutti gli amici di Radio Fly. Ciao Radio Fly. Ascoltate tutti Radio Fly. Ciao Radio Fly. Ciao a tutti, un bacio da Riccione e ascoltate Radio Fly. Ciao Radio Fly. Ciao Radio Fly. Un saluto a tutti gli amici di Radio Fly. Ciao amici di Radio Fly. Ciao a tutti, oggi stiamo all'Opera di Riccione e volevo mandare un grande saluto a Radio Fly. Un bacio. Ascoltate tutti Radio Fly. Ciao Radio Fly. Un saluto a tutti. Grazie a tutti.